Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Oh Fiorentina A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Andiamo subito a vedere la segna stampa di questa mattina Si parla di mercato sulle prime pagine dei quotidiani Il Corriere dello Sport apre con De Polla all'Inter Marotta ha trovato l'accordo con l'Udinese per luglio Il talento argentino costerà 35 milioni più bonus Caso Icardi Scoperto un primo incontro tra Wanda e la società dell'Azzurra Si legge ancora Benatia in Arabia, Juve su Dermian Paredes al PSG Allan resta al Napoli Cellino Sì, la Roma mi ha chiesto Tonali La gazzetta dello Sport invece apre con i due bomber di Milano Icardi-Piontek, nuovo derby del gol Su Icardi si va avanti per il rinnovo Su Piontek c'è la firma Ma il 9 è tabù e prende il 19 Scelta scaramantica del Milan visti i precedenti Per Fiorentina1.com Andrea Valeri Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola